Buon venerdì 3 luglio. Ritorno sulla riflessione ieri mattina relativa alla parola, a questa nostra caratteristica preziosa, umana, risorsa anche, che ci permette di interpretare il mondo, non semplicemente viverlo, ma radicalmente interpretarlo, cercare di coglierne il senso che non è mai definitivo, è sempre provvisorio, e che abbiamo l'obbligo in qualche maniera di condividerlo con il prossimo, proprio attraverso il senso che diamo alle parole. Raffaella mi ha scritto, sottolineando alcuni aspetti fondamentali nel nostro dire, e cioè la delicatezza delle parole, l'attenzione che dobbiamo dare sia nel tono, sia nella scelta delle parole stesse. Vedete, l'uso della parola non è semplicemente una questione per eruditi, è sicuramente una realtà che può segnare un punto di discriminazione, perché le persone che posseggono un vocabolario più ampio e vasto, non sono più capaci di dire la parola, semplicemente hanno la possibilità, avendo un numero molto elevato di parole, di manipolare attraverso la parola. Per questa ragione, Antonio Gramsci sottolineò il fatto che il proletariato, povera gente, doveva proprio trovare l'arricchimento del loro vocabolario uno degli strumenti più efficaci di affrancamento dal potere che li rendeva asserviti. Quindi arricchire il proprio vocabolario significa diventare più liberi. La tentazione invece di arricchirsi per poter manipolare il prossimo è molto elevata. Pensate al linguaggio tecnicista, che avvalendosi della propria conoscenza, espressa appunto attraverso le parole, alla fine riesce a velare, a nascondere le proprie mancanze, le proprie debolezze, le proprie ignoranze, proponendosi nei confronti del prossimo come un soggetto che tutto sa. Penso ai professionisti del mondo sanitario, i quali amano usare un linguaggio fatto di parole che sono comprensibili solo agli addetti ai lavori. A volte usano anche nella scrittura delle sigle, degli acronimi e consegnano, mi è capitato recentemente di vedere la diagnosi con una scrittura che non è del tutto comprensibile, per cui il soggetto non è in grado di comprendere che cosa ne pensa il medico della sua condizione e se il medico avesse un'incertezza, dovesse in qualche maniera con molta umiltà ricca di umanità, affermare con le parole la propria preoccupazione, il proprio momento di difficoltà di comprensione per le condizioni della persona che ha di fronte. Ebbene dovrebbe trovare le parole giuste, non le parole della manipolazione. Penso soprattutto al campo della salute mentale, è un luogo dove al di là dei tentativi organicistici e biologisti di volersi rappresentare come gli esperti di un organo, anziché i soggetti coinvolti nelle dinamiche esistenziali delle persone, con tutte le sfaccettature humorali, ideative, cioè la completezza dell'essere umano, nella sua dimensione di salute fisica, spirituale, economica, sociale, che ti permette in qualche maniera di vivere bene o male la vita. Ebbene gli organicisti e i biologisti tradiscono il proprio mandato, la propria vocazione, ma al di là di questo, al netto del biologismo e dell'organicismo che ha caratterizzato e caratterizza profondamente la psichiatria in una sorta di complesso di inferiorità rispetto alle altre discipline specialistiche della medicina, al di là di questo, io credo che il campo della salute mentale è il luogo principe della parola e del superamento dell'uso della parola in senso specialistico per riportarla alla sua essenza umana, cioè quella del dire, il sentimento nei confronti della realtà. E quindi, ritorno alle riflessioni di Raffaela, grande attenzione, ma ci sono tante forme per trasformare le parole in manipolazione. Io non temo le parole dure, non temo neppure le parole dette con sagge ironia, temo soprattutto tutto ciò che è manipolazione, tutto ciò che è esercizio del potere attraverso la presunzione del sapere. Temo anche le parole dolci e rassicuranti e nello stesso tempo false. Non voglio essere a tutti i costi rassicurato, voglio che il dire sia un dire di verità, di svelamento. È chiaro che quando si dice nella verità si dice sempre nella consapevolezza di non poterla possedere e quindi ci si pone inevitabilmente in una condizione di umiltà e di umanità. Questo è il vero senso della parola. Non abbiamo bisogno di una modulazione delle parole per cercare di portare gli altri alle nostre convinzioni. Abbiamo bisogno di condividere le parole trovando un punto di mediazione con il prossimo e la sintesi sarà una unità tra gli esseri umani che si realizza nel superamento ciascuno di se stessi. È lì che ci porta la parola che è un intreccio di significati e quindi la sollecitazione è di allargare il numero di parole all'intera popolazione in modo che si faccia competente e non specializzata. Cioè capace di concorrere insieme agli altri, cooperare insieme agli altri verso un obiettivo comune perché questo vuol dire competere e quel bene comune è attraverso il dono della parola riconoscere, riconoscere che ciò che sta davanti a noi non è un nostro prodotto ma è qualcosa che dobbiamo rispettare perché è luogo della trascendenza. E quindi quando esprimiamo la parola lo dobbiamo fare con senso profondo di meditazione. Professor Ludoni aveva invitato nell'ultima parte della sua vita aveva invitato i programmi di club ad approfondire e a praticare la meditazione e la trascendenza senza naturalmente richiamarsi a pratiche esoteriche, a appropriarsi di culture che non sono proprie ma sono di altre culture. A partire dalla cultura nella quale viviamo, qualunque essere umano vive all'interno di una cultura. Basta il rispetto reciproco ma tutte le culture sono richiamate alla meditazione e alla trascendenza e questa meditazione e questa trascendenza avviene attraverso appunto questo fare riverberare la parola che ci porta al nostro essere, alla nostra essenza. E dove sta la nostra essenza? Semplicemente in quel patrimonio straordinario del sentirsi in armonia e in sintonia con gli altri e con il creato. Lì troveremo pace. Papa Francesco nell'Omelia di Domenica ha ribadito ancora una volta che ci sono tre porte chiuse allo Spirito Santo o per non credenti naturalmente allo Spirito della vita, cioè allo Spirito che libera e che naturalmente fa essere la parola. E sono il narcisismo, lo scoraggiamento e il pessimismo. Il narcisismo che ci spinge a contemplare la nostra immagine allo specchio a essere totalmente autocentrati. Lo scoraggiamento che è una cifra del nostro tempo in particolare dove prevale la lama in tela, le cose non vanno bene, nulla va bene, c'è sempre una catastrofe. A partire dalle condizioni meteorologiche ci siamo appiccicati a questa previsione, vediamo tempeste da tutte le parti, ci rammarichiamo o un caldo torrido che rende arida la terra, siamo continuamente spaventati, vediamo crisi e ci lamentiamo, nulla va bene. E poi c'è l'altra porta chiusa allo Spirito, il pessimismo, tutto è buio, tutto è scuro. Ebbene liberiamoci da queste tre dimensioni e incominciamo ad agire nella convinzione che noi possiamo essere capaci di svolgere il nostro protagonismo in ciò che noi crediamo, positivamente agendo, non semplicemente contrastando. Abbiamo una grande opportunità in questo tempo di crisi, quello di diventare protagonisti attraverso la parola, alla quale dobbiamo credere profondamente, perché la parola anche nel mondo religioso, è la rappresentazione autentica del divino, del trascendente, che si incarna e si fa parola, e il verbo si fece carne. Questo è il punto essenziale che possiamo ritrovare in tutte le ricerche spirituali di ogni forma religiosa. Cioè ciò che noi non comprendiamo, ciò che ci trascende, l'assoluto, si incarna e si fa parola. E facendosi parola può realmente rappresentare e trasformare il mondo. È un compito che ciascuno di noi può svolgere se saprà essere persona perseverante nella ricerca della costruzione di un mondo sempre più capace di vivere nella dimensione dell'amore. Buona giornata a tutti.